Se stai riscontrando problemi riguardo al DirectX che su Steam non si installa direttamente il DirectX Microsoft DirectX direttamente sul gioco The Crew 2 e se stai ricevendo proprio problemi riguardo a questo drive è possibile installarlo manualmente sul nostro computer. In descrizione ho lasciato vari link per scaricare e installare così DirectX e soprattutto anche il Microsoft Visual C++ sul nostro sistema. Come puoi vedere c'è quello anche di Nvidia app per aggiornare sempre la nostra scheda grafica Nvidia, quello del DirectX and User Runtime, questo qua è la pagina quindi ne ho scaricati parecchi per alcuni giochi ma visto che aggiorno sempre la scheda grafica non ho problemi. Vado direttamente su scarica, installo così il mio DirectX, vado su sì ed eccolo qua. Programma di installazione di DirectX accettiamo così il contratto, installo il Bing Toolbar, non lo installo perché è solamente un motore di ricerca, faccio avanti e lo sta installando. Installazione in corso. Installazione completata, volta fatto fai fine. Puoi anche chiudere questa pagina e passiamo direttamente al Microsoft Visual C++. Clicca sul Visual Studio dal 2015 fino al 2022 e scarica uno di questi due oppure puoi scaricarli tutti e due. Scarichi e installi, un'olta fatto riavvia il tuo computer. Poi c'è quello di Nvidia App. Per aggiornare la nostra scheda grafica, una volta scaricata così la versione è beta, è facilissimo da scaricare, scarichi, installi e poi avvi qua sopra, Nvidia App. Vai direttamente su Driver ed eccolo qua. Gli ultimi driver rilasciati dell'11 di settembre, Drive Game Reti e Driver Studio. Aggiorni sempre finché non trovi qualche aggiornamento da fare e basta. Se non dovesse funzionare andiamo direttamente sul tasto destro su Start, qua sopra, Gestione dispositivi. Scendi fino a giù fino a trovare schede video, la tua scheda video, aggiorni i driver, cerca i driver, clicca qua sopra, clicca il primo, fai avanti e installi così il driver e riavvia il computer. Se non dovesse bastare, controlla sempre gli aggiornamenti di Windows 10 o Windows 11, oppure un altro sistema operativo che hai, Windows Update, verifica disponibilità, aggiornamenti. E qua sopra puoi vedere la cronologia degli aggiornamenti, gli ultimi aggiornamenti installati. Come puoi vedere ho installato l'ultimo aggiornamento il 15 di settembre, installazione riuscita. Non mi resta che cliccare sul gioco per farti vedere che a me il gioco funziona perché aggiornando sempre i driver, installando automaticamente o manualmente i driver DirectX nella Microsoft, aggiornando i driver della scheda grafica, non riceverai più problemi su questo. Ed ecco che il gioco si è avviato, senza nessun errore, un messaggio errore, nessun avvio, problemi DirectX e cose così. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!